Ciao ragazzi, vi sto parlando qui dalla postazione di Ivano, oggi due big news. Allora, la prima è pazzesca, nel senso che oggi ho fatto il mio intervento a Radio Rosso Nera con Edoardo e Pietro, il direttore e poi il presentatore di questa trasmissione Launch Branch, 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 insomma avete capito? E oggi insieme a me, perché io il mercoledì, non so se lo sapete, ma faccio sempre un intervento si parla un po' di cucina, un po' di tutto quanto, però nella puntata di oggi c'erano due ospiti che erano spettacolari, il primo era Fabio Caressa, infatti io quando ho sentito che c'era anche lui ero contentissimo e mentre parlava lui io sotto dicevo Cannavaro, Cannavaro, perché come fare a dimenticarsi quella mitica serata di luglio, mamma mia, del 2006, mamma mia Fabio, emozionante, emozionante sentirlo poi troppo simpatico, ma poi la clicca, proprio la clicca sulla torta c'era Zlatan, Zlatan Ivraimovic con noi in diretta che doveva fare un'intervista e doveva smettere praticamente erano quei 30 secondi, poi c'ero anche io che ero lì collegato e quando lui finisce di fare l'intervista mi fa grande chef numero uno, saluta e teoricamente dovrebbe essere andato via, no? E invece poi rimane lì perché io poi parlo e continuo con quello che dovevo dire, insomma è nato un teatrino fra me, Caressa, Ibraimovic, De Orde e Pietro, ci siamo scassati da ridere, insomma ragazzi se volete riguardare, cioè riguardare era radio quindi potete riascoltare la puntata, abbiamo fatto praticamente interventi via Skype, quindi l'audio non è dei migliori però, però, però si sente, guardate è stato davvero emozionante, fra l'altro io non sapevo né che ci fosse Fabio né che ci fosse Ibra, perché se ne occupano Edoardo, Pietro, cioè loro sono che gestiscono la trasmissione, io sono l'ospite fisso del mercoledì, voi pensate la mia emozione quando a un certo punto sento Ibra che era lì e dico ah Ibra è qui, potrei parlare e potrei interagire con lui, no? Interviene lui invece a gamba tesa su di me, è un grande, tante di quelle risate, va bene, allora ragazzi vi metto qua sotto il link per potervi riguardare la puntata, vi abbraccio forte, cioè riguardare la puntata, riascoltare la puntata, dopo che è entrato Ibra e che abbiamo iniziato a interagire io non so più che cosa ho detto, nel senso che mi sono emozionato, ragazzi cioè Ibra per me è un super mega campione, quindi ero veramente emozionato, non è la prima volta che ci vediamo però questa volta non ci siamo visti ma però è stato un modo perché abbiamo parlato un po' tante cose interessanti, va bene, ragazzi cliccate qua sotto, riascoltatevi la trasmissione dal minuto 30 a parte Ibra, vi voglio bene, poi stasera a proposito, questa è una cosa importante, stasera invece facciamo nel video, nel vloghettino che carico sul canale, faccio un'intervista a tre persone, sono due professoresse che ci spiegano come oggi stanno affrontando questo momento, questo periodo particolare e come lo stanno gestendo con i ragazzi, quindi quali sono le loro impressioni eccetera eccetera, ecco se avete delle domande da porre a loro scrivetemene qua sotto che poi saranno domande che io genererò a loro e poi chiamiamo, quindi farò sempre un'altra intervista a Gorilla che è uno youtuber, un carissimo amico che lui è un personal trainer e ci aiuterà a tenerci in forma perché io vi insegno a ingrassare e lui vi insegna a dimagrire, perché se io poi collaboro con lui riusciamo a fare le cose fatte meglio, ok? Comunque ragazzi vi ricordo questa sera ore 21, la nuova puntata sul canale vlog e adesso questo qui è l'anteprima della dell'anteprima di questa sera di facciamoci compagnia, good morning Italia, lo chiedo molto però questo ve lo dovevo mettere, questo questo clipino lo dovevo fare perché era importante, ciao ci vediamo stasera dalle 21 registro quindi per le 22, 23, tanto alla fine, se tiriamo notte poi la mattina è più facile che dormite e passa prima la giornata, vi voglio bene, ciao ragazzi!